In bilico tra il tempo e un destino che sarebbe a dir poco crudele. Il Teramo ha ancora poco più di 48 ore per procedere all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Termine perentorio, mercoledì a mezzanotte. Le speranze sono ridotte all'omicino perché il presidente Biancorosso Iachini non sembra intenzionato a portare avanti la società in solitario. Fatto alquanto particolare perché se non ha maturato la decisione di andare avanti da solo nelle ultime ore, come è possibile che fino a giovedì scorso tenesse tanto la stipula del passaggio della gestione del Bonolis? Nel silenzio generale di una piazza che adesso, a 12 mesi dal grande entusiasmo per il nuovo corso e una presentazione faraonica in piazza, si sveglia con l'incubo di perdere il professionismo e neppure più uno stadio destinato, adesso si invia ufficiale, allo stesso proprietario che dice di voler troncare un'avventura ripartita nel 2008 e che aveva riportato i campionati pro nel breve volgere di qualche stagione. In realtà, una cosa di cui si parla relativamente poco è l'assenza di un accordo con i calciatori per quanto riguarda gli stipendi del periodo Covid, il versamento di quelli, che passa ovviamente per una trattativa tra la società e l'organico, il presupposto fondamentale per procedere all'iscrizione al prossimo torneo. Iachini insiste perché i giocatori rinunciano in toto a quanto spetta loro da contratto, dall'altra parte la risposta è sempre stata un taglio al 50% e chiudiamo la questione. Un tiro e molla che non ha mai portato davvero ad una stretta di mano. D'altronde, a convincere Iachini ad esistere sono stati investimenti talmente poco in linea con la storia del diavolo quanto assolutamente sbagliati sotto ogni punto di vista. Contratti pluriennali e onerosissimi, rendimento assolutamente inaccettabile in campo e un rimorso da parte del presidente Biancorosso quando ha compreso che in Serie C vince la politica dei piccoli passi, a meno che non ci sia un successo immediato. D'altronde, un ottavo posto con, parole di Iachini, oltre 5 milioni di euro per la costruzione della squadra sono un totale flop sotto tutti i punti di vista. Un esonero in corso d'opera di un tecnico preso per essere al centro del progetto e cacciato, parole di Iachini di qualche settimana fa in conferenza, per rapporti incrinati. Nulla dunque di tecnico, spia evidente di una confusione assoluta che ha investito il club, anche in questo momento nel quale molti provano a convincere Iachini a rivedere i propri piani. Una tifoseria incredula dopo, bisogna dirlo, aver accordato una fiducia è andata molte volte ben oltre quanto concesso a qualunque dirigenza italiana, non solo di Lega Pro. A due giorni dalla deadline non resta dunque che attendere, con una piazza ormai inferocita, una dirigenza che pare intenzionata a riportare indietro le lancette del calcio bianco-rosso. Grazie.